Questione Fiume Tanagro e progetto per la messa in sicurezza fermo al palo. Nella giornata di ieri il Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, approfittando della presenza a padura del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha portato alla sua attenzione il progetto approvato dalla Deputazione Amministrativa dell'Ente Consortile lo scorso 11 aprile per essere inviato in Regione e presso gli enti competenti al fine di ottenere il finanziamento dello stesso per un importo complessivo di oltre 10 milioni e 600 mila euro. Risorse recuperabili dai programmi di investimento contro il dissesso idrogeologico, un progetto che attentamente studiato dai tecnici dell'Ente Consortile prevede in particolare tre interventi specifici sulle zone più a rischio e che una volta effettuati i lavori consentirebbero il superamento generale delle criticità dovute ai rischi provocati dal maltempo. Il Presidente Curcio ha esposto il progetto al Ministro dell'Ambiente che da accanto suo ha spiegato come la progettualità non sarebbe ancora aggiunta sulla sua scrivania, manifestando però la disponibilità ad un'eventuale approvazione. Si resta quindi in attesa che arrivi la gognata vidimazione e validazione da parte della Regione per un progetto che Beniamino Curcio ritiene indispensabile. Ho voluto dire al Ministro una cosa molto importante. Lui parla sempre che in Italia non mancano i fonti. Per il dissesso idrogeologico ci sono i fonti, soprattutto con Italia Sicura, con il Rendis e praticamente quelli che mancano sono i progetti. Paradossalmente il Consorzio di Bonifica tiene un progetto esecutivo, cantierabile, di 10 milioni e mezzo che parla della sistemazione del fiume Galore dell'Ambio. Quindi c'è un progetto molto importante pronto per essere appaltato e chiaramente noi abbiamo bisogno di questo finanziamento. Quindi da una parte ci sono i progetti, dall'altra parte c'è bisogno del finanziamento. Il Ministro mi ha detto che è esclusiva competenza della Regione Campania e manca un solo passaggio. Nel senso che noi questo progetto l'abbiamo già caricato sulla piattaforma Rendis. Ci vuole adesso la validazione della Presidenza della Giunta regionale e quindi sostanzialmente l'impegno che ha preso il Ministro appena arriva a Roma a questa comunicazione il progetto può essere finanziato. Per noi è molto importante perché, ripeto, si tratta di rimuovere delle criticità che durano nel tempo senza le quali il valo di Dianne è sempre costretto a questi imponenti fenomeni di allagamento. Quindi si allaga e ci sono danni poi non solamente alle aziende agricole ma anche danni agli insediamenti abitativi, alle aree industriali. Abbiamo visto anche di recente con il maltempo che c'è stato nel Vallo di Dianne. Non ci vuole una pioggia eccezionale. Bastano anche eventi piovosi normali. Per come è fatto il Vallo di Dianne, per come è fatta la rete idraulica, per come è fatto il fiume Calore di Anacro, per le criticità che sono lungo l'asta fluviale, chiaramente nel Vallo avremo sempre problemi seri. Grazie.